Ciao, sono Elena da Cipro. L'insetto che preparerò oggi è questo coleotero tropicale. È un cervo volante, il suo nome è Hexarthrius pari e vive nelle foreste pluviali dell'Indonesia. Questo esemplare è un maschio. Si riconosce dalla femmina per le grandi mandibole che usa per combattere contro altri maschi. Vivono sombra gli alberi e quando sono vicini a una femmina i maschi si affrontano con le grandi mandibole, cercano di staccare gli altri maschi dai rami e farli cadere. Adesso è pronto per essere aggiunto alla collezione del MUFA il Museo delle Farfalle che, come vedete, non si occupa solo di farfalle.